allora ti sto facendo tutta la fase della preparazione prete e gollo da solista da solista sta appoggiato già? si ma l'avremmo avuto capitanzo l'antonio? si l'avremmo avuto lo sei decumbato voi? lo sei decumbato qua tutto appoggiato sembrerebbe apparentemente tutto appoggiato rilegati antonio rilegati le cinture di dietro attaccami i cinghi e questo è il primo evento la prima volta che vado da solo speriamo che ce ne saranno delle altre e pochino fermo e chiuso di avuto questo tutto apposto visto qua sta scritto a massa allora antonio di paolo nella pista da lui fatta la rino fly si sta accingendo al decollo da solista la sua espressione si nota un po' di emozione sono emozionatissimo altri che un po' di emozione mi conforta sapere che ci sono state grandi persone prima di noi i pionieri del volo che si sono veramente avventurati per aria e grazie a loro che dobbiamo noi siamo qui in questo momento persone che hanno rischiato la vita e qualcuno ce l'ha anche rimessa per l'amore del volo qua ai tempi che i mezzi erano monoposto e non si poteva fare scuola in due qua dai mi sa che è usciuto l'auricolare non si poteva fare scuola in due non si poteva fare scuola in due non si poteva fare scuola in due Grazie. Ecco Antonio che sei... Non ti cagare sotto. Questo volo lo dedico a mia mamma. Ma tu vuoi bene. Tu vuoi molto più alto purtroppo.